E' straordinaria le regate dei catamarani Xtreme 40, sono catamarani che partecipano a un circuito internazionale Xtreme 40 World Series che sono sostenute da Land Rover a livello mondiale e proprio Jaguar Land Rover Italia si è dato da fare per portare questi quattro catamarani per queste regate esibizioni spettacolari qui davanti in bacino in questi due giorni, credo che molti di voi abbiano potuto godere degli scontri tra queste quattro barche che sono il massimo della tecnologia della vela, d'altronde oggi la Coppa America si corre con i catamarani che è una dei miei 20 velici più importanti del mondo come la barcolana, non poteva avere i catamarani tra le barche presenti Abbiamo la premiazione di queste Land Rover Xtreme Series Barcolana, stiamo quindi sul palco Daniele Maver, presidente di Jaguar Land Rover Italia e Mitya Jaluz, presidente di Barcolana, sono loro, ecco qua alla mia destra Daniele Maver e alla mia sinistra Mitya Jaluz e merito loro se abbiamo potuto godere questo spettacolo Allora dicevamo premiazione di queste regate, 10 prove, qualcuna con più vento molto combattuta, qualcuna un po' più faticosa con poco vento e passiamo quindi alla premiazione, quarto classificato, Fincantieri, una barca con un equipaggio interamente triestino che chiamo sul palco, sono loro che si sono qualificati al quarto posto, skipper e timoniere, l'avete appena visto il popolare Rufo che proprio sul catamarano prepara la prossima campagna olimpica bravissimi, oggi hanno vinto anche una regata, quindi direi che hanno imparato velocemente grazie ragazzi, potete andare al quarto posto la barca che portava il nome di Land Rover in regata quindi chiamo l'equipaggio sul palco Grandi velisti anche loro, non solo grandi velisti, anche grandi regbisti come il barone Locicero, bravissimi anche voi ce l'avete fatta per un punto solo a sorpassare per anche per loro una bottiglia, una magna di prosecco Zonin no, non si può stappare, prego ragazzi, grazie, complimenti bevete là sotto, state ben qua secondi classificati, l'equipaggio di Red Bull è uno degli equipaggi che partecipa a tutto il circuito Land Rover Extreme World Series otto legati in giro per il mondo, ci sarà la finalissima in dicembre a Sydney eccoli qua, Thomas Agara, due medaglie d'oro nei Tornado delle Olimpiadi bravissimi anche loro, secondi classificati bravi, bravissimi anche loro, bravi per l'applauso vincitori qui in bacino di Barcolana della Land Rover Extreme 40th Barcolana Ovan Air pensate, hanno vinto 7 delle 10 regate, straordinari sono tutti giovanissimi e sono tutti alle prime armi del mondo della vela vengono da un paese dove la vela non ha ancora una grande tradizione ma hanno imparato molto velocemente c'è una coppa per loro, eccola qua veramente molto bravi complimenti ancora, grazie a tutti adesso c'è il tanto atteso tra dieci minuti il concerto di Mario Biondi e poi al termine del concerto come sempre uno straordinario spettacolo pirotecnico buona musica a tutti grazie a tutti Grazie.